Non è cambiato niente qua. In realtà sono cambiate tante cose. Sono passata davanti al cimitero. Io ero accanto a lei quando è morta. Non riusciamo a guardarci, ci evitiamo. Chi è la sconosciuta? Ho pensato che la musica avrebbe fatto succedere qualche cosa. È successo qualcosa di incredibile. La città aveva ricominciato a vivere. Cominciò a credere che quella donna non sia mai esistita. So che differenza c'è tra la realtà e un sogno. Quella differenza è leggera, come il sorriso di quella donna. Grazie a tutti.